Mi merito di essere qui? Sì, ero in lista d'attesa, ma questo è il posto per me! E se non fosse il posto giusto per me? Capelli perfetti, outfit impeccabile... Ciao, mi chiamo... Prego, entra pure! Sia udace come l'arcobaleno! Benvenuta nel tuo nuovo gruppo sfilata! Ragazze, vi presento la vostra nuova compagna, Amaya! Ciao! Mi sono persa qualcosa? Sostituirò Bella? Ma non è giusto! Ti sei persa parecchio, ma tranquilla, non potevi saperlo! Io sono Sunny e loro sono Violet, Skyler, Poppy, Ruby, Jade e... Sunny, Bella se ne è appena andata! Esatto, ci serve un momento per riprenderci! Oh, chi è Bella? È la ragazza che ho visto nel corridoio! È la ragazza di cui stai prendendo il posto! Vuoi dire che sono stata presa perché l'hanno appena espulsa? Oh, wow, mi dispiace molto, non lo sapevo! Beh, lei progettava scenografie, fai lo stesso anche tu? No, io sono esperta di moda! Di moda, hai detto? Anch'io sono esperta di moda! Perciò adesso siete in due! Ci sarà d'aiuto, giusto? Abbiamo tantissimo da fare! Il progetto per questo semestre è mettere su un'intera sfilata! È pazzesco! Dobbiamo completare sette look e occuparci di tutto quanto! Musica, acconciature, trucco, scenografie... È tutto in mano nostra! E abbiamo finalmente trovato il tema della sfilata! Niente pioggia, niente arcobaleno! Che dici, ti piace? Molto di più, lo adoro! Avete già finito tutti e sette i look? Non ancora, solo due sono pronti, sugli altri ci sto lavorando! Fantastico! Cioè, sono contenta di unirmi a voi mentre state ancora decidendo! Potrei farvi vedere un mio design! Niente pioggia, niente arcobaleno! Non so se cercavate qualcosa del genere, ma... Ah, è molto moderno! E se aggiungessi un paio di orecchini grandi o una fushacca? Certo, perfetto! Sarà grandiosa... Ma scusa, stanno davvero lavorando insieme come se fosse tutto normale! Sembra che a loro non interessi che Bella se ne sia andata! Magari Bea è ancora qui, andiamo! Ma se invece... Vieni con noi, Amaya! Così puoi vedere dove sono le nostre stanze! Fantastico, grazie! Come possono farti questo? Non è giustizia! Vado a salutare Bella! Tu magari rimani qui! Non vorrei che ti sentissi a disagio! Mi mancherai tantissimo! Mi mancherai anche tu! Non posso credere che stia succedendo! Vita da Vai vi porta gli scope direttamente dalla Rainbow High! Da un triste addio... A un nuovo incontro! Ti va di firmare questa liberatoria per Vita da Vai? È il mio vlog, reality show, live stream sempre aggiornato! Aspetta, Vita da Vai? Ecco perché ti conosco! Cioè, seguo il tuo vlog! Dammi, firmo subito! Che bello, sei una fan! Bene, è ora dello scoop! Racconta tutto ai miei follower, chi è davvero Amaya? Beh, mi chiamo Amaya e vengo da una cittadina piccola così! Realizzo vestiti come questo! I miei amici dicono che parlo il linguaggio della moda, vedo tessuti e fantasie e capisco subito come combinarli in modo innovativo! E sono anche molto... Quindi sei tu che mi rimpiacerai! Sai quando ho detto che saresti stata a disagio? Beh, ecco perché! Sì, mi dispiace, io non lo sapevo! Mia madre è qui, devo andare! Non riesco ancora a crederci! È un ingiustizio! Farai sempre parte di questo gruppo, d'accordo? Nessuno sta prendendo il tuo posto! Oh, perfetto! Siete tutti qui! Amaya, vedo che hai conosciuto le tue nuove compagne di stanza! Le mie nuove cosa? Compagne di stanza! Prenderai posto nella stanza di Ruby, Jade e Violet! Le darete davvero il letto di Bella! Bella ha deciso di infrangere le regole e ora non frequenta più la Rainbow High! La stanza è di Amaya! E so che in quanto sue compagne di stanza farete di tutto per farla sentire la benvenuta!